Una decisione complicata e sofferta, così Carlo Salvemini definisce la sua scelta. Non entrerà a far parte, come in passato, dell'opposizione di centro-sinistra al Comune di Lecce. Essendo il primo dei non eletti durante le elezioni del 2007 nella lista dell'Olivo, poi diventato Partito Democratico, avrebbe dovuto prendere infatti il posto di Carlo Benincasa, scomparso per un infarto giorni fa. L'annuncio dopo le festività pasquali. Così questa mattina alle 8.30 ha protocollato presso il Comune la sua rinuncia ad entrare in Consiglio Comunale. Sul suo profilo Facebook tanti sono i commenti dei affezionati che esprimono apprezzamenti per la sua coerenza politica e umana. E la motivazione inevitabile la dà proprio lui, a pochi giorni dal prossimo Consiglio che avrebbe dovuto ufficializzare la sorroga. Sono uscito con tormento dal PD nel 2009 e non mi è possibile tornare a sedere a Palazzo Carafa da consigliere eletto in quel partito e dichiararmi all'atto dell'insediamento indipendente. Me lo impedisce il rispetto dovuto ad una comunità di cui sono stato per diversi anni dirigente, impegnato e appassionato e che mi volle nel 2007 candidato nella propria lista. Me lo impedisce il rispetto dovuto a Carlo e alla sua vicenda politica e umana. Il suo scranno è giusto torni ad essere occupato da un consigliere che del PD si sente parte. Vivere la politica con passione e spirito di servizio e rinunciare ad entrare in Consiglio Comunale per dare il proprio contributo di energia, impegno e idee è una decisione difficile, sofferta, ma inevitabile se ci si attiene a principi di coerenza nella militanza. Con queste parole Carlo Salvemini rinuncia ad un posto nella minoranza che già in passato lo ha visto combattere anche a fianco di beni in casa. Lui che, mai soddisfatto di rimanere in superficie, andava alla ricerca di chiarezza spulciando tra le infinite carte, documenti e atti e spesso rivelando situazioni poco piacevoli per la città. Lui che ad un certo punto, senza voltarsi indietro, ha deciso di abbandonare il PD continuando il suo cammino politico autonomamente, ma creando attorno a sé un gruppo di militanti che tra delusione ma anche orgoglio ora gli scrivono questo. Anche così, con la tua etica, la tua coerenza, la tua dignitosa decisione può dare un segnale di speranza e di cambiamento, una politica migliore è possibile. Il testimone ora passa al prossimo Pino De Gennaro.